Ciao a tutti, bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo settimo appuntamento con Bioshock Ora dovremo andare a depositare le armi per poter entrare nella tana del Signor Peach Quindi Adesso andiamo a trovare il Peach Ok, io voglio ancora la macchina Ehm, cosa c'è qua? Non posso prenderla, vabbè prendiamo questo Prendiamo quest'altro Bene, quindi Dopo aver fatto Le tre foto ai Ricombinanti ragno Presto rompe i coglioni qua Il ghiaccio penso che non si rompe Cazzo non ho mai visto un ghiaccio così duro? Ma dove cazzo vive sto coglione? A caverna di Mr. Freeze Boh Ciao amico Dove sei? Ma che cazzo Non vedo niente Scommetto che quando il tuo capo è scattaiolato via dall'inferno Ha detto al via E sarebbe tornato subito E quello ha detto Certo Mr. Fontaine Le tengo in posto Ryan ha giurato che Fontaine era polvere Ad accote qui Ha il suo sporco Quindi Ryan È un ballista No Ma no Stupito stronzo Pincio di merda Io ti ho fatto le foto Adesso tu mi vuoi uccidere Maledetto bastardo Dove sei? Vai a puttana Non vedo un cazzo Sì poi c'è solo sto cazzo di cosa qua Aiuto Non c'ho le armi Ma muori Un culo Chi è? Ma va a cagare Va dai Frigiti Mi splade l'osso Che bordello Oh stronzo Dove sei? Vieni qua Vieni qua Maledetto bastardo Ti prendo bastonato Cioè Cazzo E vaffanculo Dove sei? Vabbè ancora vivo? Dove cazzo sei? Ma Bastardo Dove sono le mie armi? Ah te la sti merda Aiutiamo il vecchio Pinch Vaffanculo Pinch Bene mo Cazzo I nostri armi Dove sono? Oh e c'è solo la pistola Wow Vabbè meglio che niente Porca troia Ah fanculo Torretta da merda Oh figlio delle munizioni Perfetto Cos'è questo coso? Cos'è? Ah ho ripreso le mie armi Figo Ah un gulo Cos'è sto coso? Ah per potenziare le armi Vediamo un po' Potenziamo Uè Fidessimo Infleggiamo più danni Cazzo No ma sei richiuso Maledetto Eh quanti trofei Chi è? Oddio Cazzo Ucucucu Fidessimo No Non posso più Prendere niente Oddio Ah va fanculo Dove sei? Ma l'ho preso? Uff Ah però posso comprare un po' di roba no? E' pieno di soldi Ma chi è? Cioè praticamente mi ha inculato alla grande sto stronzo Bene 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 Tu stai Maledetta Questa torretta del cazzo Allora Allora dunque Adesso Ecco di qua Telecamera Di merda Chi è? Ma che cazzo vuoi? Ma dove sei? Ah ma è lì? Bene Quindi Ora facciamo lo scambio dei Poteri Plasmite Mi serve la plasmite incendiaria Come faccio? Allora facciamo così Track Ok Ok salita la droga Prendiamo Boh questa Ok Poi Ok Ah perfetto Bene Ora Curiamoci un po' Io Yeah Ma che cazzo sei Ma che cazzo sei? Ah ma sei tu Stroll Brucia Non puoi voltarti alle spalle Che ti inchiulano Oddio Oddio Muore Puttana Puttana E che cazzo Ma quanti sono? Allora Vediamo un po' C'è niente da prendere qua? No Poi Poi Facciamo che qua Chi troverò qua dentro? Niente Nessuno Poi Andiamo Ah però io 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 Mi ricordo che c'era qualcosa Da qualche parte All'entrata Se non sbaglio Che non potevo prendere Perché c'era il ghiaccio Adesso però E vai Nuovo tonico Yeah Bene Ok Com'è che si chiama sto posto? Fish E questo come si chiama? Scusami Fontaine Fish Ok è questo Boh Eravamo già qui Quindi devo andare nel Semiterrato Però io prima di andare nel Semiterrato Volevo Spendere un po' di denari Allora Spendiamo un po' di questo Un po' di questo Un po' di questo Ma si Spendiamo sti denari Via un po' di roba E poi Ok Siamo a bosh I tuoi desideri Voi a fanculo Questo a posto Questo a posto Quindi Andiamo giù Atlus Tu e il tuo Sottomarino Di merda Va fanculo Ah però adesso Posso prendere il denari Di questa No? Dove Eh amico Tua sorella Mi ha mandato Oh Faglio Figlio Di tambete Track Un po' di snack Un po' di snack Una cassaforte Ma si Asciugliamo un po' di ghiaccio Qui Non c'è niente Cassaforte Vediamo cosa c'è qua dentro Oh che palla Non ho voglia Si dai Facciamo così Faccio prima Dai Se ne frega Oh quanta roba Poi Pistola mia Tu Sfaldi miei Tu stronzo Cosa che cazzo è Ok Cosa che cazzo è Sto cosa Sarà dentro qui Ma è l'ultimo posto Ma non ho altre scelte Ok Sciugliamo un po' di ghiaccio Cos'è? Ma? Tu non fotti Fontaine Fontaine fotti te Fontaine fotti te Che fotti tempo Sciogliamo un po' di ghiaccio Eccoci qua Ta 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 Così si fa Da lì dovrebbe essere una passeggiata Sì Ci vediamo più avanti Certo Una passeggiata E' andato tu stai lì tranquilli Non so dove cazzo sei E io Faccio tutto qua Maledetto Atlas Bastardo In culo Ai tuoi rincombinanti Oddio Chissà cosa ci aspetta Ora qui ragazzi Ok Vediamo un po' Cosa ci aspetta Qua si trova le patate Oddio Oddio Che flash La tua famiglia Cos'è? Ma la bu- Che cazzo è sto coso? Oh porca puttana Fottuta torretta di merda Beh Vaffanculo Cos'era? Stai scricchioli del cazzo Vieni continui a mangiare le patatine Voi diventi obeso Coglione Una bella pera di Di plush Di Dive Cos'è? No Alcol nono Ho già schizzato abbastanza Se non so Umbriacarmi Usa l'interruttore su Nella cabina di comando E fammi entrare Eccolo lì Il fo- Minchierci la mano E fare conoscenza Così ti spacco la testa Ti tiro un pugno in testa Te la sei spassata Mo chi è? Dai Ryan Se premi quel pulsante Imparerai cosa significa Essere davvero Io ti buco Mi sto cagando Adosso dalla paura Minchione Che paura Se premi quel pulsante E io lo premo Già solo nel momento Che hai detto Non premere quel pulsante Mi è venuta voglia Di premere quel pulsante Quindi adesso lo premo Se lo trovo Eccolo Dove vai? Che cretino che sono Oh sto parlando Tac Eccolo Bene Figura che altro è successo Oddio Oh oh Guardalo Eh io solo Scherciato il pulsante Vedere cosa? Oh cazzo Oh cazzo Oh merda Eh che t'ha fare Ma va fanculo Va Fatevi sotto Beh Eccolo lì Ciao stronzo Friggi e muori Ah va che cazzo vuoi Cazzo Usano quelle armi Sì maledetti Dov'è la troia Che mi sto sparando Cazzo stai Ah eccolo lì sotto No Chiuto scappa Corri via Eh sta zitto Mi stanno sparando Tutte le parti Mi rompo i coglioni Dov'è? Che è sto coso qua? Ma va a cagare Ma Oh cazzo Oh merda Ma va Chi sei? Ma ide tu di essere una gente della scia Qua dò Ne Ci sono due modi Per trattare un mistero Ok Ma va cagare Cazzo Mi spiace Se la tua famiglia era lì dentro Bene ragazzi Adesso andiamo ad Arcadia E questo gameplay Finisce qua E al prossimo gameplay Saremo ad Arcadia Ciao ciao a tutti Da GeneticDNA Saremo ad Arcadia Saremo ad Arcadia